Frantumata la vetrina di una pizzeria è portato via l'incasso del mattino, ma nessuno se ne accorge. Eppure siamo al centro di Sassari, è sabato e sono le 4 del pomeriggio quando i malviventi entrano indisturbati nella pizzeria Elena in via Zanfarino. È successo prima alle 16.30 di un sabato pomeriggio in un centro pieno di attività e tra l'altro tutto abitato. E la cosa che mi fa meraviglia è che qui ci sono molti studenti universitari che si affacciano per fumarsi la sigaretta o parlare al cellulare. Siamo stati sfortunati che in quel momento non c'era nessuno, alle 16.30 non c'era nessuno che ha visto niente, noi abbiamo chiesto ma nessuno ha visto nulla. Il proprietario in pausa pranzo aveva lasciato la serranda del locale aperta come di consueto, ma al suo rientro ha trovato la sgradita sorpresa. Le abitazioni e le attività vicine non hanno visto e sentito niente, dato che il furto è avvenuto fuori dall'orario lavorativo. La denuncia è arrivata all'autorità giudiziaria che ora sta svolgendo le indagini, ma i malfattori non sono stati ancora identificati. La denuncia è arrivata all'autorità giudiziaria che ora sta svolgendo le indagini, ma i malfattori non sono stati ancora identificati.